ciao ciao manu aspettiamo solo un attimo che è un po di gente si colleghi piano piano alla diretta ne approfitto anche l'ora per condividerla sulla pagina adesso controllo eccola qua la condivido in tempo reale ne approfitto solo un attimo nel frattempo qua ho un gatto ciao gatto esatto una pagina arriva subito ecco mi sa da mi dà sempre dei problemi qua non ho capito se non chiedere a me consigli sulla tecnica ninja la tecnica ninja per farlo perché si sta collegando siete collegati con archi gay gioconda dalla se in sede ci siamo io e il presidente alberto nicolini ciao ci alterneremo un pochino da questo lato del mondo da grande distanza da emanue siamo a reggio lui a bologna per capirci ci alterneremo un pochino e per questo ci alterneremo anche con la mascherina ma ognuno la propria e anche perché la mia più bella è gialla e abbiamo come ospite manuel casto eccomi ora scusate stavo condividendo sui miei canali eccoci ci siamo collegati oggi in questa ultimi cinque giorni alberto che ci separano dalla fine della nostra raccolta fondi online su ginger per casa tondelli casa per vittorio tondelli chi ci conosce sa che stiamo impegnati in questa grossa operazione di raccolta fondi per aprire questa casa per ospitare le persone lgbt in difficoltà e dopo chiederemo al presidente come sta come andata come sta andando la raccolta fondi e poi stasera magari spiegheremo anche come un minimo come funzionerà la casa di cui attualmente io sono la responsabile nominata perché è tutta basata sul volontariato questo ve lo posso già svelare e non è che i volontari sono pieni così per cui è affidata a chi c'è e che ha le competenze alcune competenze per fortuna il nostro piccolo comitato ce le ha abbiamo invitato manu e manuela qui io farei subito una domanda per noi siamo è un'associazione abbiamo la percezione interna del mondo e delle esigenze del mondo lgbt e spesso veniamo accusati ci viene chiesto ma esiste ancora davvero la discriminazione a tal punto da avere bisogno di una casa ad aver bisogno di una tutela di parte particolare per le persone lgbt qui class noi siamo un'associazione abbiamo la nostra percezione ma c'è anche uno sguardo esterno uno sguardo come il tuo di un artista di un artista che nel suo modo per me meraviglioso io sono una fan ovviamente affronta questi temi con ironia ma anche con quella che con ironia velenosa e per cui ti chiediamo il tuo sguardo c'è ancora questa discriminazione c'è ancora questa esigenza allora la risposta è sì ma è molto interessante riflettere sulla domanda sul fatto anzi che qualcuno si sia posto la domanda dire ma ce n'è ancora bisogno vabbè io sono sempre poi per la scuola per cui non bisogna mai vergognarsi a fare domande bisogna vergognarsi a dare certe risposte ma le domande ben venga ben venga farsele perché abbiamo spesso persone oggi che si chiedono ma c'è ancora bisogno di fare attivismo per quanto riguarda le persone lgbt qui plus c'è ancora bisogno del pride c'è bisogno di contesti come questo che volete costruire chi si fa questa domanda lo fa perché si basa come qualsiasi altro essere umano sulla sua visione del mondo viene da sé cosa succede che oggi la nostra visione del mondo però è determinata dall'ambito social che frequentiamo e che noi ci costruiamo sulla base delle nostre preferenze che non significa che lasciamo fuori le cose che non ci piacciono anzi spesso i social ci fanno vedere le cose che più ci fanno arrabbiare ma sono quelle che l'algoritmo sa attirano di più la nostra attenzione quindi se una persona non è interessata determinate non ha mai sviluppato una sensibilità nei confronti determinate problematiche non non troverà riscontro di queste stesse potrebbe pensare che sia tutto risolto e ancora adesso c'è una frammentazione enorme di quella come possiamo definirla sì direi proprio dell'informazione plasmata sulla base della propria bolla questa bolla può essere determinata da fattori anagrafici da fattori demografici da fattori politici ad esempio e quindi può succedere che chi magari penso ad esempio a persone giovani se prima magari mi stavo riferendo più a persone che anche per una questione di età o di idee politiche non hanno una sensibilità particolare verso certe tematiche qui invece penso ad esempio a persone giovani che magari si relazionano soprattutto in tempi di pandemia agli altri con social come instagram si può ritrovare in una bolla in realtà piuttosto felice mettiamola così ma il fatto è che all'interno di questa bolla che soprattutto ha dei fattori di nuovo insisto demografici e anagrafici e insisto perché secondo me il conflitto generazionale è uno dei temi più importanti della della nostra epoca e effettivamente potrebbe pensare beh sì qui qui è tutto risolto è vero che in ambito in un certo tipo di ambito social o nella cultura pop mainstream ora si fa grande bandiera dell'inclusività è una cosa che sentiamo molto sì ma all'interno di questa sfera nel momento in cui usciamo da questa sfera c'è una realtà completamente diversa ora questa è stata un'introduzione un po verbosa però sul per riflettere sul proprio su come ognuno percepisce la realtà andando un po nel concreto c'è una differenza macroscopica tra grandi città e paesi ma enormi enormi io non solo vivi in una città che non è enorme però insomma è considerata una città non un paese ossia bologna ma in più che città voglio dire considerata una delle città più importanti per quanto riguarda insomma la cultura queer in italia e lo vedevo a questa ancora l'università e parliamo di vent'anni fa con compagni di studio che dicevano però c'è ancora bisogno se lo chiedevano perché erano in questa torre d'avorio no poi figuriamo l'università di bologna quindi insomma grande attenzione a certi temi e invece se ci si sposta in altre realtà più piccole soprattutto del sud italia ma non è assolutamente detto cioè ci sono anche zone nord particolarmente complesse e lì il coming out ancora può comportare l'espulsione del proprio cerchio d'affetti della propria rete sociale perdere il lavoro quindi no c'è ancora tanto bisogno di tutele in questa direzione e con questa cosa ultima che hai detto io porto la voce che abbiamo ospitato in questi anni perché noi costruiamo questa casa questo luogo perché in realtà noi questo servizio ce l'abbiamo già attivo e appunto magari noi non viviamo in una grande città o comunque in una città anche grande come reggio emilia dove però i servizi dove la cultura dove la storia cittadina non ci fa vedere tantissime criticità però ci arriva la gente dal sud ci arriva gente che già magari appartiene a fasce sociali oa marginalità o semplicemente abita in piccoli paesi cui l'italia è piena e che ci chiedono aiuto abbiamo ospitato l'anno scorso abbiamo ospitato quest'anno io stesso ospitato alberto ha ospitato ospitiamo tuttora gente che non ha che esce che esce di casa che viene sbattuta fuori o che se ne deve andare per la sua sicurezza fisica a volte ma anche emotiva perché la situazione non è più tollerabile e ci sono tantissime richieste noi abbiamo già richieste adesso solo per il fatto che abbiamo iniziato questo crowdfunding io adesso invece la domanda la farei ad alberto perché costruire questa realtà costa una barca di soldi per cui io chiedo ad alberto come siamo messi faccio un po il punto della situazione e dici anche di cosa ancora abbiamo bisogno perché siamo qui stasera anche per farvi questo appello di continuare a giornare ok grazie Anna ciao Immanuel bellissimo vederti grazie di essere qua con noi sì questa sera nascostamente ma poco visto che è scritto lì sotto siamo qua proprio per per continuare a raccogliere dei fondi la raccolta fondi sta volgendo un po al termine quella che è la raccolta fondi diciamo ufficiale col crowdfunding che è durata quasi due mesi perché siamo all'ultima settimana e abbiamo superato il nostro obiettivo minimo di che era di 10 mila euro adesso siamo a 11 per quel che riguarda la parte online 11 10 mila euro per noi era diciamo la parte il minimo indispensabile per quanto meno aprire con l'acqua alla gola l'appartamento è stato identificato ci saranno alcuni passaggi per entrarci ci sono alcuni lavori da fare c'è da arredarlo assolutamente c'è però anche da come dire mantenere le persone che sono all'interno perché con quegli 1 2 5 euro ma anche volendo di più andiamo anche noi prendiamo tutto anche di più prendiamo diciamo che con quei soldi abbiamo tanti vizi abbiamo bisogno di soldi per i nostri vizi come dico sempre ma in questo caso il nostro vizio è darna mano per fare la spesa per le possibili 3 4 persone che saranno nell'appartamento in certi momenti servono dei fondi importanti per pagare le bollette per fare gli accompagnamenti eh l'idea come diceva Anna è proprio quella di cominciare in con tutto il volontariato possibile con professionalità che vengono messe a disposizione come quella di Anna che ringraziamo sempre ehm che vengono messe a disposizione per aprirle per tirare avanti alcuni mesi probabilmente un anno e mezzo perché poi ci sono dei bandi il governo può mettere a bando dei fondi per le case di accoglienza ma eh per accedervi la casa deve essere aperta da almeno un anno che è un criterio diciamo molto rigido ma è anche un criterio di sicurezza perché i soldi non vengano giustamente dispersi in progetti farlocchi il nostro non è un progetto farlocchio devo dire che abbiamo già avuto come dire sono anni che lavoriamo sul territorio sono anni che facciamo le varie cose e eh siamo anche abbastanza riconosciuti tanto più che ci sono diversi enti non ultimo la CGL che proprio hanno voluto sostenere non solo economicamente ma anche fattivamente con una relazione molto forte per aiutare le persone nella casa proprio un po' a premiare a tutto il mazzo che ci siamo fatti in questi anni eh quindi siamo partiti bene eh di certo prima di arrivare ci serve molto di più eh e ci servirà continuamente del dinero eh perché il denaro sterco del demonio val bene a coltivare la vigna di Archie Gate Sembra un ottimo modo, un'ottima coltivazione hai visto Manu abbiamo degli artisti anche in casa un poeta un poeta senti Manu io ho una curiosità siccome tu eh ah dico anche una cosa potete fare domande scritte eh sui social poi ce le inoltre ranno infatti ne approfitto per salutare le persone ho letto i commenti che che si sono connesse è un piacere ti volevo chiedere visto che tu nelle tue canzoni ehm canti eh delle fighe sfortune dai sfortune eh e del dei ragazzi anche giovani eh omosessuali eh ti chiediamo ricevi ehm se puoi dirci la questa questione dita ricevi messaggi eh sia sui social che sulla tua email appelli di ragazzi che ti chiedono consiglio o che ti raccontano le loro discriminazioni che vorrebbero una mano per come uscire da brutte situazioni assolutamente sì assolutamente sì sia messaggi molto belli in riferimento a miei canzoni nel dire guarda questo pezzo mi ha aiutato tantissimo in questo periodo lo associo al mio coming out sono cose molto belle addirittura genitori mi scrivono questo e questo veramente mi fa tanto tanto piacere però sì c'è spesso persone che dicono non so come fare coming out non so se è il momento giusto ho paura e lì per quanto mi lusinghi la dimostrazione di stima io non mi considero nella posizione di dare un aiuto concreto ma soprattutto perché questo aiuto difficilmente potrà prescindere dalla conoscenza del territorio e in questo caso io rimando sempre poi alle associazioni di riferimento se c'è un arcigay locali avere una rete è veramente fondamentale veramente fondamentale mi butti la carta Manuel è anche un creatore di meravigliosi giochi soprattutto con le card che io amo molto e per cui mi ha buttato la carta con la parola rete che è proprio il nostro intento quanto noi abbiamo pensato a che tipo di casa vogliamo creare che tipo di servizio vogliamo creare non vogliamo mettere un doppione di assistenza di assistenzialismo sul territorio perché già noi abbiamo un territorio che ha tanti servizi di tutela sociale di tutela sanitaria di tutela noi vogliamo creare una casa un luogo sì sicuro fisicamente cioè dove la persona che arriva col treno da qualsiasi paese che noi andiamo a prendere possiamo mettere in un posto dignitoso sicuro protetto ma anche una casa in senso di rete una casa in senso di calore di sentirsi non da solo non da sola nel suo percorso e poterlo farla sentire che non è la prima persona che ne potrà uscire avere un gruppo di amici che è l'associazione stessa con cui fare attività sia attività di noi chiederemo l'impegno a chi viene ospitato di venire alle nostre attività associative ma anche di creare un gruppo di amici con cui bersi una birra con cui farsi un pianto quello che si perde quando si viene via da casa cacciati o o perché si deve o perché si scappa è sì la sicurezza fisica economica mangiare non mangiare stare sotto un fonte al freddo non piace a nessuno è una cosa molto brutta ma si perde anche una sicurezza in senso emotivo ci si sente soli abbandonati noi l'abbiamo visto in questi anni che facciamo accoglienza quanto importante è costruire una rete di questo tipo e per questo abbiamo proprio pensato a una casa una casa dove poter accompagnare una persona a cercarsi lavoro che non vuol dire trovargli lavoro vuol dire come fanno anche i genitori i fratelli guarda che ho sentito che cercano guarda che all'ufficio del lavoro ci si scrive così così dare una mano come se fossimo una famiglia a volte questo permette anche di ricostruire dopo quella famiglia di origine che a volte col tempo tu parlavi di genitori a volte ci vuole un tempo di tempo anche per la famiglia per riaprire le porte non so se a te nella tua storia è capitato di avere momenti di chiusura con la tua famiglia e poi magari nel tempo di poter riaprire assolutamente sì allora nel complesso mi considero fortunato poiché comunque non ho affrontato traumi della portata che affrontano persone che poi hanno effettivamente bisogno di uno spazio come quello che dovete costruire però capisco molto bene comunque quello che intendete allora in particolare quando hai detto la consapevolezza di non essere solo o sola al mondo questa è una cosa che ad esempio a me è mancata allora sembra piuttosto buffo parlarne ora perché sembra che dopo sia nato nell'ottocento non è così è che i cambiamenti culturali e tecnologici intercorsi negli ultimi vent'anni hanno stravolto tutto molto banalmente quando ero adolescente io non c'era internet cioè muoveva i primi passi ma non era ancora realmente fruibile non era in tutte le case per intenderci io mi sono informato sul mio orientamento sessuale andando in biblioteca cioè non c'era altro modo all'epoca e questo ok mi ha dato una infarinatura che mi ha aiutato a capirmi però avevo una fame enorme innanzitutto di rappresentazione e pativo tantissimo nel non averla ma soprattutto di contatti umani e così io credo di essere stato il primo quindicenne out nel mio liceo di Bergamo detto questo il mio coming out non è che abbia tirato altre persone che l'abbiano fatto a loro volta io quindi sono andato avanti anni 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 ora razionalmente sapevo di non essere solo perché avevo letto che esistevano altre persone però io non le incontravo non le incontravo e all'epoca io ho avuto proprio sfortuna perché la mia adolescenza si è collocata in un buco in cui l'arci gay locale a Bergamo non c'era c'era prima è tornata dopo ma in quel buco non c'era quindi capisco davvero l'importanza ora va detto che per fortuna grazie ai nuovi media ora difficilmente una persona queer preadolescente arriverà alla scoperta o della propria identità di genere o del proprio orientamento sessuale completamente a digiuno di simili nozioni questa è una fortuna però poi c'è tutta invece la parte dei rapporti dei rapporti umani perché il fatto che loro abbiamo avuto queste nozioni non significa che le abbiano ricevute invece in famiglia allora il mio coming out in famiglia di nuovo rispetto a tante altre storie è stato comunque positivo dove ad esempio no posso raccontarlo mia madre è avvenuto la cosa che mi dispiace un po' troppo presto non perché ci sia un'età giusta in cui farlo non era la mia età io non ero ancora pronto infatti questo è un consiglio a volte che dico che mi sento di dare ai genitori quando mi contattano dicendo cosa dovrei fare con mio figlio mia figlia lì io dico mostra apertura ma lascia spazio e lascia che sia poi la persona a decidere quando sarà il tempo nel nel mio caso chiedo posso vedere anche io Anna chiedo scusa so che la regia mi ha messo in primo piano mi faceva piacere un interlocutore io non sono la regia e fai tu no capisco però mi piace a piacere allora nel mio caso invece allora mia madre non è che abbia dovuto fare chissà quelle associazioni mentali ha trovato una rivista pornografica nel bagno mettiamola così e lì ha capito che insomma dopo un momento di rifiuto che non ha verbalizzato ha deciso di parlarmene e quello in realtà è stato molto bello nel senso che mi ha preso da parte dicendo io credo tu sia omosessuale devi sapere che io amo tutti i miei figli indistintamente a prescindere dalle loro caratteristiche insomma mi chiedevo se tu lo fossi e la mia risposta è stata credo di sì e è positivo di per sé però è arrivato un momento ad esempio in cui era un po' presto un po' presto per me è stata un pochino una violenza proprio ripeto rispetto a tante altre storie in realtà è comunque una storia che sul lungo termine ha avuto lieto fine però tutta poi la gestione della mia sessualità è stata complessa in casa inevitabilmente cioè se fossi stato eterosessuale avrei avuto molta più libertà nel parlare delle mie frequentazioni nel vivere serenamente prime esperienze sessuali quindi si continuano a ribattere su questo tasto capisco le complessità ma è chiaro che poi rispetto a quelle di altre persone sono mi è andata che bene mettiamola mettiamola così in particolare posso solo intuire perché è qualcosa di più in un'esperienza diretta quanto possa essere difficile per una persona trans assolutamente e immagino che invece voi di esperienze dirette ne abbiate parecchie io a Natale ho proprio ospitato una persona una ragazza trans straniera con permesso ovviamente di soggiorno però con documenti che aspettavano la rettifica anche su permesso di soggiorno del cambio diciamo anagrafico di nome tutto il percorso in realtà dei documenti è veramente un incubo un calvario per le persone trans in questo momento nella diciamo nella sigla LGBTQI plus sono quelle che di più vivono l'essere cacciate di casa non trovare un altro posto un altro percorso per essere inserite perché c'è uno stigma sociale ancora molto grande tremendo per cui sì sono le persone più in difficoltà e da qui riceviamo anche già richieste per poter entrare nella casa ovviamente e che hanno anche qualche bisogno appunto particolare sia per trovare lavoro ma per esempio come in questo caso come in mio caso una persona che aveva per esempio fatto l'intervento per cui da poco per cui ha bisogno anche di un luogo che non può essere nemmeno un dormitorio perché non puoi oltre ad essere un luogo molto pericoloso per le persone trans gender è un dormitorio perché se si viene scoperto adesso non c'è la crema di comprensione ti vengono in conto hanno già le loro problematiche e in più se hai bisogno di fare una serie di medicazioni di automedicazioni che le persone trans gender operate devono assolutamente fare per dire la casa che noi andiamo ad aprire quando mi chiedono perché c'è bisogno di una casa speciale perché ci sono anche esigenze speciali e perché ci sono rifiuti speciali cioè sono persone che vengono ancora più rifiutate di entrare in altri percorsi rispetto a persone eterosessuali e bianche maschi faccio un po' la femminista già che ci sono perché la devo fare io adesso invece chiedo ad Alberto di ripetere per chi ci ha già ascoltato ma chi ancora non ci ha ascoltato perché l'abbiamo camata l'abbiamo dedicata a territorio tornelli grazie tanto grazie Emanuele per questa testimonianza perché tante persone hanno attraversato la strada e delle volte è solo la ritirata strategica quindi molto spesso promuovendo la casa diciamo alle persone preferireste che vostro fratello vostra sorella chiunque attorno a voi finisca semplicemente a casa di qualcuno conosciuto su internet o in un luogo un po' più come dire più adeguato e con delle protezioni di un certo tipo e senza secondi fini diciamo perché purtroppo non si accade però mi piace molto la domanda che ha fatto adesso appunto Anna perché vedo ho appena visto il saluto che è scorso in sovrimpressione di una delle persone che ci ha assicurato che era una buona idea dare questo nome per Vittorio Tondelli a questa casa siamo nell'anniversario è stato dicembre insomma il 16 dicembre della sua scomparsa per Vittorio Tondelli qualcuno che ha raccontato ha cantato e ancora canta perché la sua voce è ancora attualissima è ancora qua con noi ha cantato la marginalità ha cantato le persone rifiutate ha cantato anche come dire le persone fluide in alcuni dei suoi racconti proprio ci sono persone che attraversano fluidamente i generi e ha cantato anche quello che no non fare così perché poi io vedo quei braccioni lì e mi emoziono no no ovviamente dovresti tornare a fare allora devo intervenire ha cantato ha cantato diciamo quello che noi possiamo evitare cioè il finire nelle tossicodipendenze perché quando si finisce sulla strada non si ne esce quindi noi vogliamo intervenire un po' come diceva l'anna prima vogliamo intervenire prima che ci sia bisogno di andare in servizi sociali ben più pesanti comunque tornando all'idea ovviamente Tondelli personaggio reggiano cantore anniversario della sua scomparsa e abbiamo cominciato a ragionarci a chiedere in giro una persona che poco fa era collegata non so se l'ho ancora che è Luca che è stato il suo ultimo compagno quando abbiamo un po' ricordato Tondelli un anno fa in diretta perché eravamo ancora in zona rossa eccetera a parte gli ho proprio chiesto ma se noi gli dedicassimo questa cosa cosa ne penserebbe perché erano altri anni per cui l'attivismo era vissuto in un'altra maniera e lui ci ha come dire assicurato che secondo lui era un bello omaggio e lui avrebbe fatto molto piacere quindi il nome Tondelli viene un po' non è solo per come dire per dire un nome importante reggiano ma è proprio perché è legato alle persone che vogliamo accogliere dico solo un'altra cosa perché volevo salutare ci sono tante persone collegate almeno hanno fatto un saluto prima tipo Gabriel che non vedo da un sacco di tempo e tra l'altro ho avuto diverse vicissitudini spero che tu stia da Dio ma soprattutto Francesco Francesco è una persona che lavora con me è un mio collega del posto nuovo dove lavoro da qualche mese ed è una cosa esatto è una cosa grandiosa perché i piccoli segnali come collegarsi a queste cose dare un saluto eccetera sono sempre dei segnali di apertura tipo appunto puoi parlare di te stesso perché il silenzio per le persone LGBT non ne ha senso il silenzio uccide il silenzio nel silenzio noi diamo sempre per scontato che comunque è meglio di queste cose non parlare quindi anche solo esserci condividere queste cose o fare una donazione fare quello che si ritiene è sempre un modo per cambiare il mondo mi taccio però Emanuele mi taccio se tu stuoni a fare questa cosa perché era molto bello no il braccio perfetto stai così ci piace quello che dici ma non sono riprendi in mano la situazione che qui come sempre quando facciamo le nostre direzze degenera se no state tutti tranquilli siamo qui a proposito del nome quando Dario la prima volta me ne ha parlato e voi ha memorizzato Casa Toninelli dicevo che strano mamma no no se c'è qualche analista in linea faccia il suo collegamento va bene è terribile allora adesso ho fatto domande a Alberto ho fatto domande a Manuel io volevo solo dirvi un attimo che tipologia di persone noi andremo ad accogliere si chiederà una casa con Anna in pratica sta soffrendo che nessuno le fa le domande quindi la farò io Anna che tipologia di persone accoglieremo dentro questa casa? non voglio fare troppo la femminista ma non so se i nostri amici di Archie Gay Gioconda che ci conoscono hanno notato che mi ha fatto fare la valletta siamo il giorno prima di Sanremo con un sacco di tipologie di donne e io ho dovuto fare la valletta ma non è vero hai fatto la host tecnicamente la host sì è tu che stai conducendo e stai intervistando wow ma infatti volevo dire che comunque voleva voleva assolutamente farlo e adesso si lamenta quindi vabbè come tutte le donne dai dite anche questa e poi siamo proprio abbiamo fatto serata tra noi tre non so chi è più donna però è importante sapere che tipo di cioè a chi si involge che tipologia di servizio soprattutto noi daremo due tipi di servizio fondamentalmente un primo proprio in emergenza sarà un servizio che durerà che si attiva subito posti letto permettendo ovviamente si attiva dura al massimo 15 giorni serve proprio per dare un respiro alla persona vedere se ci sono possibilità o di rientro a casa che è sempre la nostra priorità cioè di ricostruzione un filo con la famiglia di origine oppure se non ci sono e spesso non ci sono le possibilità anche altri posti e altre situazioni più durature però la persona non è sotto un ponte sa che ha un posto dove non dormire sotto un ponte ha un cibo caldo e ha anche persone con cui condividere questo momento difficile per alcune persone sappiamo benissimo che i tempi si protrarranno per cui c'è un secondo percorso che dura al massimo sei mesi si fa un accordo ovviamente tutto questo è fatto su accordi accordi scritti con regole precise offriremo però in questo secondo percorso sarà una casa più un percorso più solido dove noi vogliamo accompagnare non sostituirci ma accompagnare sorreggere la persona su un progetto di vita che può essere un progetto di studio piuttosto che un progetto di ricerca lavorativa e utilizzeremo tutte le risorse che ci sono già sul territorio e quelle che nasceranno e per fare questo abbiamo uno staff diciamo fisso un coordinatore più una o due persone che da tempo peer pari seguiranno le persone soprattutto quelle a lungo termine però abbiamo anche un sacco di professionisti esterni psicologo avvocato due avvocati abbiamo che ci possano seguire in alcune cose che noi non sappiamo fare che ci danno una mano veramente non involontariato ma quasi e che ci sostengono veramente tanto e ci aiutano tanto per cui queste saranno le due tipologie non prenderemo persone ad alto con più fragilità ecco grazie Alberto molti fragili non prenderemo malati psichiatrici gravi non prenderemo persone prive di documenti in regola prenderemo tutte le persone italiane europee e anche straniere con permesso di soggiorno in regola perché ci sono tantissima fragilità ci sono le famiglie pericolose famiglie d'origine ma ci sono purtroppo anche delle comunità di origine pericolose per le persone LGBT e su questo anche il gruppo il nostro gruppo migranti spendo solo una parola e li ringrazio perché il nostro gruppo migranti ha raccolto soldi fra persone con veramente problemi economici ci ha fatto una grossissima donazione dando proprio il loro togliendosi in questo caso non il pane ma quasi di bocca per poter aiutarci e darci una grossissima per loro donazione per aprire questa casa e ci tenevo a segnalarlo e Alberto mi chiede di poter aggiungere una cosa si aggiungevo su questa cosa del gruppo migranti che la donazione è grande anche per noi nel senso che hanno fatto una colletta ma come dire fa riflettere perché il punto non è che ovviamente chi adesso sta lavorando ha dato di più però è gente che non ha la famiglia qua cui chiedi mamma papà avrei bisogno di per cui è gente che è molto più rischioso per loro dare 50 euro che per me darne 500 probabilmente ma soprattutto l'hanno fatto perché volevano intitolare questa è una ricompensa di cui ce n'è ancora una perché vi ricordo che questa diretta è per raccogliere fondi la casa Cobaleno oltre che per far sapere che esiste una ricompensa che era quella di dargli il nome a una delle stanze e hanno scelto Papa Blessing Papa Blessing era un signore in Africa un signore comune aveva un ristorante ad Abuja in Nigeria e tutti lo conoscono perché se eri gay lesbica eccetera potevi andare da lui e lui ti dava due consigli ti accoglieva ti dava da mangiare gratis se eri un po' in difficoltà in quel momento ti metteva ti faccia a conoscere qualcuno è scomparso diversi anni fa prima che le leggi peggiorassero però ha dato l'avvio a quello che è il nostro gruppo migranti per certi versi e nel giorno della memoria il fatto che un po' per caso è uscita sta cosa ci fa pensare che i giusti ci siano anche adesso e un giusto era Papa Blessing e non abbiamo l'albero da piantare perché non abbiamo il giardino però abbiamo una targhetta a mettere su una porta ci hanno chiesto la cucina perché lui cucinava e quindi un bel ricordo di questa cosa qua l'altra cosa che dicevo è su questa cosa delle persone della comunità di origini nella casa dobbiamo tenere una casa anche in collaborazione con degli enti si stanno aggiungendo le collaborazioni dobbiamo tenere un profilo molto alto dal punto di vista della sicurezza appunto per le multifragilità ci devono essere servizi sociali che affrontano queste cose noi vogliamo evitare di arrivare fin lì che è una parte una fascia in cui ancora non c'è granché cioè se non sei abbastanza sfigato non ti diamo un posto dove stare per essere chiari noi invece intendiamo dare un posto in modo che non finisci con dei bisogni altri però su questa cosa dell'accogliere persone che invece non hanno documenti o non ancora hanno documenti vuol dire che a Reggio Emilia anche nel giro di Archie Gay stiamo facendo il nostro ruolo e lo stiamo facendo ancora lo continueremo a fare semplicemente avremo dei posti in più liberi perché la casa soffrirà delle persone che possiamo metterli non è male no decisamente allora io adesso voglio farmi vedere una cosa a Manu vai solo se tu ci fai vedere qualcosa ma basta io so che non bevi però volevo un altro modo per sostenere casa arcobaleno ti voglio vedere cosa molto bellina che abbiamo fatto già l'anno scorso che è la gender beer e avere un tuo parere guarda che carino ma è deliziosa ma sono dei piccoli uniporni quelli sopra bravo ma che carino e presto arriverà anche la rossa non so se ci vede opla la rossa guarda com'è Rita Hayworth unicorno ma è splendida ok siamo stati bravini sì la birra fra l'altro a me non dispiace però va nobilitata con il limone eh lo so che tu bevi la lemon beer e io ho i brindi comunque un'ottima qualità di vita no perché ho il presidente che va avanti indietro dalla sede tanto per facilitarmi il compito il valletto il valletto eh io sto però sul pezzo volevo aggiungere e chiedere a Mami se ci spuderatamente dammi tre dai non a me alle persone tre motivazioni per sganciare dei soldi ok per fare una donazione dai tre belle motivazioni per darci una mano ma allora non so se ne trovo tre mi sembra che sia una quella principale perché è veramente bello e utile è veramente utile cioè stiamo parlando davvero delle cifre che chiedete sono a partire veramente dal costo di un caffè a salire e sono è veramente un bel regalo che viene fatto a tante persone che ne hanno bisogno francamente non se vuoi ti faccio delle altre battute però questa è la ragione principale allora ti inviteremo verrai ti anticipo già adesso che ti inviteremo al taglio del nastro quando ci sarà una specie di taglio del nastro fisicamente dov'è dov'è ubicato la casa sarà qui a Reggio Emilia il posto della casa sarà nascosto per cui si ah neanche la zona quindi si può dire a senso giusto si 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 la zona è qui vicino dove abbiamo la sede ok nel senso che li teniamo vicino anche per poter partecipare agevolmente alle attività però questa è una cosa molto importante noi chiederemo a tutti a chi abiterà la casa e la teneremo riservata perché talvolta appunto la sicurezza è fatta anche da queste cose però la festa il taglio del diciamo del del nastro la faremo qui nella sede di Archie Ghe simbolicamente in modo da non svelare esattamente dov'è però da festeggiare perché è un'impresa che ci è costata molta gioia ma anche ci sta costando molta gioia ma anche molta fatica e molto impegno e adesso immagino anche perché come dicevi poi è tutto lavoro volontario tutto lavoro volontario ora in questo caso c'è sicuramente una causa molto forte a fare da collante ma nella mia esperienza il lavoro volontario non è semplicissimo da gestire cioè basta impegnativo quindi veramente complimenti perché ovviamente ogni persona ogni persona fa nella misura che ti può sì io devo spezzare una lancia in favore di una città che anche nelle istituzioni io in questo caso in istituzioni metto tutti gli enti tutti gli enti possibili dove troviamo le porte aperte magari dobbiamo un po' spingere la porta ok però alla fine si apre e questo permette anche a noi volontari di non vivere la frustrazione del rifiuto per cui ci agevola un pochettino a tenere l'energia del volontariato alta non è facile non è facile perché tutti quanti abbiamo un lavoro e dobbiamo guadagnarci la pagnotta per cui ci vuole anche tanto tempo ci vuole tanto tempo per fare relazioni per costruire le campagne di crowdfunding per provare i soldi per chiederli alla gente per fare i banchetti e per fare tutte queste attività chiarissimo hai delle domande prego direttamente ok autogestione cioè Emanuele volevo raccontarti un paio di cose un paio di donazioni che sono state fatte perché nel crowdfunding se attraversate la pagina del crowdfunding spero che stiano girando i link ovunque sostanzialmente ci sono diverse ricompense molto simboliche perché il punto qua è da andare a casa non comprarsi una maglietta però volevo raccontarti che sono state due una molto commovente una molto divertente una molto commovente è una persona che ha firmato come Miriam ma non è Miriam che dice in ricordo di Miriam abbiamo bisogno di mamme come lei perché le nostre le nostre lotte nelle nostre lotte perché l'uomo lesbo bi-transfobia si combatte solo con una cultura differente la cultura nasce in famiglia quindi non sappiamo esattamente a quale Miriam si riferisca però è una cosa molto bella leggere una cosa del genere e c'è quella un po' più divertente siccome donando 100 euro che è una cifra fattibile si ottiene di essere ricordati ad imperitura a memoria in un totem come questo qua con i nomi che verranno composti è che hanno voluto sostenere molto attivamente questa casa un mio conoscente che ha appena avuto un bambino con la sua compagna ha proprio insistito molto e mi ha detto io voglio che mia figlia un giorno veda bene da che parte ero e che non pensi che casomai sia stato uno di questi stronzi che vediamo in giro quindi delle volte nei segnali si può anche rimettere sul totem da che parte si sta e noi siamo ben volentieri di prendere questo tipo di segnali un'ottima motivazione un'ottima motivazione allora ti faccio una domanda visto che ti abbiamo qui disponibile tu fai parte del mondo dello spettacolo c'è discriminazione proprio è vero che non c'è più discriminazione nel mondo dello spettacolo in generale perché noi abbiamo questa fantasia che per gli artisti vada tutto bene essere artista non è più un problema poi se sei gay di trans certo allora perlomeno nell'ambito che frequento io posso dire che è uno degli ambiti migliori dal punto di vista dell'inclusività ma in generale l'ambito artistico creativo è stato secondo me uno dei primi ad aprirsi a questa direzione non è sempre stato così lo è diventato anni dopo che si pensava che lo fosse mi spiego meglio gli anni 80 sono ricordati già come all'epoca vabbè dai pensa artistica pensiamo tipo a un boy George o un Renato Zero a livello di immagine sì lo potevi pensare ma non se ne parlava mica cioè nelle interviste non si diceva mica non si diceva i coming out se ci sono stati perché a volte non ci sono mai stati sono arrivati dopo era veniva tollerato che già non è un concetto bellissimo veniva giusto tollerato mettiamolo così l'accettazione vera e propria fino ad arrivare a raccontare quel tipo di cultura in realtà è più recente però sì per la mia esperienza devo dire che è un bel ambiente ma ripeto anche l'ambiente creativo in generale io oltre che l'ambito artistico mi muovo in ambito nerd diciamolo così fiere ludiche ambito gaming e lì c'è c'è in realtà molta 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 apertura fra l'altro sebbene sia un ambito ad esempio quello dei gamer ambito che storicamente ha nettissima maggioranza maschile ci sono dei cambiamenti ora in atto li vedo alle fiere ludiche proprio cambia il tipo di partecipazione e c'è una crescente attenzione nei confronti della comunità lgbtqi plus ci sono tante realtà che stanno nascendo sul territorio ludiche dedicate alla alla comunità quindi sì devo dire che per quanto mi riguarda l'ambiente è bello è uno di quegli ambienti che ti può far pensare se vivi in quella torre d'avorio che non esistono che non ci sia più reali problemi di discriminazione ok per cui attenzione alle torre d'avorio ti faccio un'altra domanda in un'altra veste io so che tu sei una persona molto intelligente è certificata la cosa e ti chiedo le persone più intelligenti con un qui più alto sono meno discriminanti cioè è una questione di qui secondo te o dalle tue da quello che sei allora concordo nel dire che ho un qui alto a livello di certificazione l'intelligenza la lascio stabilire a chi vede e chi ascolta perché non c'è comunque ad oggi un metodo univoco per definirla tanto più che non esiste una definizione detto questo allora sì è la provocatoria una domanda cosa? è un po' provocatoria no va benissimo questo l'ho capito allora basandomi permesso che non è stato condotto nessuno studio che io sappia quindi mi sto basando su mie percezioni sulla mia osservazione di persone ad alto cui essendo in contatto con tante persone ad alto cui allora credo che rispetto magari ad una media presa in altri ambiti sociali ci possano essere meno dinamiche ossia che l'ambiente sia mediamente più aperto ma non posso dire che sia immune ok questo è questo il punto perché non è il più delle volte tanto una questione di intelligenza to cure figuriamoci di processi logici di bias di bias culturali e in realtà una persona allora qualsiasi processo logico che parte da premesse sbagliate può arrivare arriva a conclusioni sbagliate una persona ad alto cui ci arriva anche prima alle conclusioni sbagliate quindi se nel caso di una persona ad alto qui che ha determinati pregiudizi sociali e culturali ah no va avanti come un treno e a volte anche peggio lì è buona fortuna a cercare di far cambiare idea dalla regia mi dicono che c'è una domanda per Emanuele se c'è se me la fate vedere qua sì sì allora ci sono stati due grossi cambiamenti che hanno avuto un impatto notevole sulle scelte discografiche uno è la pandemia ovviamente perché ricordiamo che la maggior parte degli artisti ma mi riferisco anche a nomi molto più mainstream del mio guadagnano sui live e attualmente io poi lavoro con i club quindi attualmente stiamo affrontando praticamente il terzo anno con un settore nuclearizzato e questo ovviamente ha messo in stand by le produzioni sebbene l'anno scorso sia uscito con due singoli in particolare uno è stato molto molto apprezzato sono molto contento che è piena questo è un elemento secondo elemento che io ho ancora il gusto del disco inteso come esco con un disco e poi si traggono i singoli solo che ora non ha più senso perché dal punto di vista commerciale un disco è promozione dal punto di vista artistico l'opera prima ma commerciale è promozione per promuovere di fatto i live quindi ti bruci tutta la promozione con la stessa visibilità che avresti per un singolo esci con un album quindi adesso sta cambiando l'approccio anziché uscire con un album e poi con i singoli si fa singolo 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 e poi tutto l'album tutto l'album c'è in lavorazione non posso ancora dire quando però quest'anno sì quest'anno sì io sono molto contenta grazie per aver fatto la domanda a Federica perché io sono molto contenta non vedo l'ora io sono uno di quelli che per pieno è diventato pazza 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 proprio è fantastico nel disco tra l'altro ho trovato anche diverse delle tematiche di cui abbiamo parlato questa sera e sì adesso non voglio spoilerarle magari c'era occasione comunque di parlarne e sempre parlando di te e io so che fai una cosa molto bella nei prossimi giorni ce la vuoi dire domani dopo domani facciamo un po' di pubblicità su Sanremo ah scusami ok ok ma in realtà è una costellazione di eventi esatto però allora il giovedì e il sabato saranno sul mio canale Twitch Emanuele Casto un gruppo d'ascolto con Romina Falconi che so che conosci dedicato appunto a Sanremo dove guarderemo in diretta mentre le altre serate sarò ospite su altri canali che al momento non ricordo bene non importa già questo è una pubblicità però mi sembra bello mi sembra bello anche chiederti cosa stai facendo tu e no no e poi fra l'altro anch'io per metà mese lancerò un nuovo crowdfunding per una produzione di un gioco però qua stiamo parlando di un progetto commerciale quindi totalmente diverso dal vostro ok però a me adesso io la dico così come proprio sempre la sento per me Emanuele il suo modo di fare attivismo dà anche lo specchio di una di una speranza di una di uno sguardo per chi magari deve ancora fare coming out per chi è giovane o anche meno giovane però una scintilla di forza per con la stessa linea d'onda con cui noi apriamo con lo stesso sentimento con cui noi apriamo casa a tondelli cioè di dare una speranza fattiva una concretezza non sei solo non sei abbandonato sì guarda mi fa piacere perché c'è tanto in questo spirito in quello che faccio io devo ringraziare Alberto perché insieme avevamo ottenuto un talk proprio a Reggio Emilia e Alberto ha detto una cosa che io poi mi sono rivenduto in tutte le salse perché ha cristallizzato una cosa che pensavo ma che non avevo mai sentito espressa con tanta chiarezza è un discorso delicatissimo però tu hai detto la vittima non è una persona la vittima ha un ruolo esattamente come il bullo tant'è che una persona può essere vittima in un contesto bullo in un altro ecco ovviamente è molto importante raccontare denunciare denunciare in senso lato ossia attraverso le strade più adatte quando si è vittima di qualcosa al tempo stesso però appunto è un ruolo non è un'identità in quello che io cerco di fare e ovviamente la mia prospettiva è senza nessun commento o giudizio se chi fa un percorso diverso in quello che ho sempre cercato di fare però è sempre stato quello tipo ok in determinati contesti qualcuno ha deciso per me che io dovevo essere vittima però è una condizione di cui io punto a liberarmi il prima possibile perché non mi piace ma grazie per avermi suggerito questa formulazione seguitemi per altre perle di saggezza esatto no in effetti è molto vero e soprattutto per me il significato di quella cosa che è una cosa sociologica il significato è anche che abbiamo tutto il diritto di cambiare idea cioè che nel proprio percorso ero contro il matrimonio egualitario ma adesso ho conosciuto delle persone adesso penso che sia una cosa utile e delle volte per cambiare idea poi cioè non c'è niente di male io credo che sia estremamente stupido rinfacciare a qualcuno posizioni più antiche ovviamente se non ha fatto un gesto da Volta Gabbana calcolato ma se è un cambiamento di opinione perché si hanno raccolto si è raccolto più informazioni perché no per esempio stasera potremmo aver raccolto più informazioni sul fatto che c'è un crowfunding calcolativo e si potrebbe anche sfruttare che ne dite esatto esatto sì direi che la nostra diretta è quasi finita io faccio un ultimo appello né a ringraziare Manuel io faccio un ultimo appello per ancora 5 giorni su Ginger si può donare si vedete diciamo come si chiama Liban del nostro conto corrente potete continuare a darci soldi anche dopo troverete banchetti faremo iniziative cene e varie feste per continuare a raccogliere soldi se ci vuoi dare un ultimo saluto anche tu Manuel perché dalla regia io direi che Anna sei frizzata mi sono mi sono auto perché mi mettono anche i cartelli modello vecchio stile sai quando ti alzano ah perfetto cioè devo prendere da tutte le parti mi dicono dalla regia che devo prima di farle salutare a te devo passare la linea al nostro presidente che ha da dire delle iniziative benissimo Anna non abbia letto il labiale che ero chiarissimo mentre le dicevo queste cose no volevo solo volevo solo dire appunto prima di salutare in mano chiediamo ovviamente di dirci un buon motivo però nel tuo stile diciamo abbandonando il politically correct per per sostenere questo progetto volevo solo dire che siamo stiamo arrivando alla fine del percorso del crowdfunding ma la raccolta fondi continuerà e continuerà in varie forme in particolare il 5 di febbraio avremo un dibattito più aperitivo al binario 49 con il luogo di Reggio Emilia molto carino un dibattito dove facciamo riunire alcuni rappresentanti diciamo istituzionali della regione e della città per dirci siccome finisce il crowdfunding adesso come proseguiamo insieme questo progetto perché lo possiamo far funzionare a lungo perché questa è una maratona ostacoli non è una corso ostacoli di 100 metri per farlo funzionare a lungo insieme cosa possiamo fare seguirà alle 17 al binario 49 sabato 5 e alle 18 e 30 invece c'è l'aperitivo con tutto ricavato va alla casa arcobaleno e l'aperitivo del binario 49 ti assicuro che è molto buono quindi se per caso hai niente da fare puoi sempre venire sentirti libero di metterti in sala più o meno va benissimo va benissimo vedo che c'era un commento che chiedeva si tratta di riprese in realtà per un progetto di comunicazione che sto supervisionando come art director è un'altra cosa non ha a che fare con progetti artistici però salutiamo il nostro Giacomo Iotti che è il nostro collegamento che amiamo molto con le tv locali grazie per aver fatto questa domanda ti salutiamo Manu e dici qualcosa per salutarci ma mi ha fatto molto piacere questo invito fra l'altro Alberto mi chiedeva di dare un incentivo salace a donare che dire raccontava di chi l'ha fatto per lasciare una traccia in passato insomma per dire da che parte stava può essere anche un modo per sentirsi superiori e poter giudicare gli altri che è una delle cose in assoluto ecco ciò vuol dire per un euro due euro cinque euro se possono giudicare le altre persone allora ti seguo per duecentocinquanta euro potrete anche dire io non solo io ho tanti amici gay ma anche io ho donato la casa arcobalena a quel punto lì va bene esatto esatto a quel punto a quel punto puoi essere contro la maternità surrogata tutto tanto è il patentino esatto perfetto allora chiedo alla regia di chiudere la diretta sentitevi superiori ma tanto superiori donate tanto a casa arcobaleno grazie mille grazie a tutti grazie a tutti Grazie.